Comunque questa cosa è davvero incredibile, infatti io lo dico sempre, lo riconosco, io sono uno che ama buttare sempre tutte le situazioni nella cacciara più totale, solo che devo essere sincero, molti miei colleghi di tifo mi battono 6-0-6-0, proprio mi umiliano, almeno io lo faccio con delle motivazioni un pochino più alte, poi mi piace soprattutto scanarmi per difendere la Juventus, chi mi segue sicuramente lo saprà questo qui, solo che veramente l'idea che c'è della gente che si scanna sul fatto che ieri è stata fatta la standing ovation, che poi diciamoci la verità, come si può parlare di standing ovation nel momento in cui ieri allo stadium, che cos'è che dicevano? C'erano una roba come 10.000 paganti, cioè sostanzialmente c'erano 4 gatti a Bernardeschi, cioè poi già proprio l'idea di parlare di standing ovation è un discorso che va molto a sé, no? Lascio un pochino il tempo che trova, probabilmente sono stati fatti degli applausi, magari un sito di informazione, se non sbaglio tra l'altro Juventus News 24, ha parlato di standing ovation, che non è stato neanche inquadrato il pubblico al momento dell'uscita dal campo di Bernardeschi, e via, standing ovation, e questo ovviamente ha fatto scannare un pochino tutti quanti. E io dico la verità, io posso capire tutti i discorsi del mondo, ma parliamo un attimino pane pane, vino al vino, cioè perché con tutto il bene del mondo rompere i coglioni nel momento in cui vengono fatti gli applausi ad un giocatore che ha avuto un percorso molto difficile alla Juventus, viene da qualche partita buona, perché è di questo che si parla, dove comunque a modo suo è decisivo, perché ieri per esempio ha fatto gol e assist, in altre partite ha fatto l'assist decisivo, viene sostituito al novantesimo nella giornata in cui riesce a trovare il gol dopo un anno e mezzo, ma ci sta fargli degli applausi con tutto il bene del mondo, poi appunto standing ovation lascia il tempo che trova come termine, davvero, anche perché dopo che sei seduto 90 minuti a meno 2 gradi, un attimo per battere due mani ti puoi anche alzare solamente per riscaldarti, per assurdo un attimino il culo che si è congelato lì sui seggiolini, però proprio l'idea di dover sempre necessariamente rompere i maroni per ogni cosa, a una certa, questo arriva davvero all'anima, con tanti tifosi sui social che ho visto che hanno fatto il paragone con il Real Madrid, pubblicando degli screen di quando qualche giocatore del Real era stato fischiato, come Marcelo che era stato fischiato e si voleva mettere a piangere, e tifosi della Juventus che pubblicando questi screen dicevano ecco la differenza tra noi e loro, chissà come mai noi abbiamo, loro hanno 13 Champions League e noi solamente due, ecco qual è la mentalità vincente del tifoso, a cazzo, cioè comunque l'idea solamente di fischiare uno come Marcelo, a me fa un pochino rabbrividire, ma questo è un mio discorso, ma soprattutto questo denigrando, no? Con l'idea quantomeno di denigrare chi invece ha applaudito Bernardeschi. Cazzo, forse c'è qualche problema di fondo, probabilmente se si va a analizzare un pochino tutto quanto, qualche problema molto probabilmente emerge se la mentalità deve essere questa qui, ma questo appunto è semplicemente una mia opinione, ecco, assolutamente, magari si fa bene, per carità, a fischiare, no? Marcelo dopo che ha vinto tutto quello che ha vinto con il Real e soprattutto si fa male ad applaudire Bernardeschi se dopo tante difficoltà sta avendo un periodo di forma abbastanza interessante, dove comunque a modo suo, tanto va accettata come cosa, è anche abbastanza decisivo. C'è per assurdo in questo periodo della Juventus bisogna riconoscerlo. Se non ci fosse Bernardeschi sarebbero uccelli senza zucchero, ma anche quelli abbastanza pesanti. È vero che sta giocando a causa di tutti gli infortuni degli altri, noi siamo tutti quanti consapevoli di questo, ci mancherebbe altro. Però, se sai, dopo che per anni ti veniva il pianto, no? Nel momento in cui vedevi una fascia sinistra composta da Alexandro, Rabiot e Bernardeschi, quantomeno nell'ultimo periodo il problema ti viene per due terzi quando vedi Alexandro o Rabiot o per un terzo quando vedi solamente Rabiot. Io, almeno, se sai che là davanti c'è il Berna, in questo periodo sono sincero, non dico che sono contento, perché non fraintendetemi, però quantomeno, dici, oh, speriamo possa essere come nelle ultime giornate, che così qualcosa di buono, qualcosa di interessante lo fa. E questo, onestamente, penso debba essere riconosciuto. Cioè, e lo dico io, che non è che sia un particolare ammiratore del Berna, chi segue questo canale da un pochettino lo sa qual è il mio pensiero sul Berna, ma in gran parte io, cioè, non è che sto rivalutando completamente quello che era il mio pensiero, anzi, bisogna pur sempre parlare di uno che, cos'è, la sua quarta, quinta stagione alla Juventus, quella che è, dove ha sempre nettamente deluso le aspettative. Prende 4 milioni, è in scadenza, e io, nonostante tutte queste ultime buone prestazioni che riconosco, sono dell'idea che se si può evitare il rinnovo, ben venga, o se proprio lo si deve fare, ha un pochino meno. Ecco, diciamo semplicemente che alla metà posso anche accettarlo. Io questo Bernardeschi qui a 2 milioni, se proprio me lo devo tenere, me lo tengo. Non dico che lo vorrei, dico che sarebbe un compromesso che sono disposto ad accettare allo stesso tempo. Però vanno bene tutti i discorsi, perché non ci si deve dimenticare quello che è stato il suo percorso alla Juventus, allo stesso tempo però non penso neanche si debba arrivare al punto di rompere, di laniare i maroni se dopo una serie di partite buone e una partita dove fa il gol del 2-0, fa l'assist, diciamo, per Moise Ken, al novantesimo viene sostituito e dopo tante partite di insulti, di critiche e di fischi viene applaudito. Mi sembra un tantinino ridicolo iniziare a parlare di mentalità, ma un pochino così da parte dei tifosi che si accontentano. Questo siamo, ragazzi. Cioè, purtroppo bisogna dire anche le cose come stanno. Siamo questo, né più né meno. E siamo magari Messi talmente tanto male che uno come Bernardeschi in questo momento è decisivo, ma va accettato, va accettato. E se dopo tante difficoltà fa prestazioni di questo genere, mi pare sia veramente il minimo applaudirlo e riconoscergli che sta facendo un qualcosa di buono. Poi, se si vuole levare dei maroni, io sono contento allo stesso tempo, però io, questo Berna, vedendo tutte le assenze che ci sono là davanti, onestamente non è che mi stia poi più di tanto dispiacendo, ma lo riconosco, probabilmente sono strano io, eh, assolutamente, per carità di Dio. Solo che certe cose, onestamente, faccio veramente fatica a capirle, ma di, so strano e ci può stare che io faccia fatica a riconoscere certe cose. Detto questo, ragazzuoli, nulla. Voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Forza Juve!